Esistono enormi problemi nel mondo che noi non possiamo risolvere. Problemi tra culture, sistemi e paesi. Come potremmo risolverli se non abbiamo a disposizione programmi o piani concreti? Noi non abbiamo inventato questo mondo. Noi abbiamo potere decisionale per cambiare le cose. Il nostro planteo è più umile e si riferisce solo al cambiamento dell'individuo e del suo viviente immediato. È molta la gente che vuole cambiare la sua vita. Ma non potrà farlo se non si riconcilia con il suo passato e con il suo ambiente immediato. Non ci sarà cambiamento senza riconciliazione. Per questo noi diciamo, smetti per la prima volta di cercare colpevoli. Tu e l'altro sono responsabili di ciò che una volta avete fatto, ma nessuno è colpevole di ciò che è successo. Ojalà si possa dichiarare non ci sono colpevoli e si stabilisca come obbligazione per ogni essere umano di riconciliarsi con il suo passato. Questo comincerà qui e ora. Questo comincerà qui e ora. In te e in me. In te e in me. E saremo responsabili di che questo continui tra quelli che ci circondano. così fino ad arrivare all'ultimo angolo della terra. Se la direzione della tua vita non è ancora cambiata, hai bisogno di farlo. Ma se è già cambiata, hai bisogno di rafforzarla. Perchè tutto questo sia possibile. Acompagnami in un atto libero, coraggioso e profondo che sia inoltre un impegno. Pongamonos in piedi. Mettiamosi in piedi. E di fronte al nostro futuro chiediamo. E di fronte al nostro futuro chiediamo. È necessario per me e per altri che cambie o se fortalezca la direzione della mia vita? È necessario per me e per altri che cambio se rafforzi la direzione della mia vita? Sì, per me e per altri che cambio se rafforzi la direzione della mia vita? voglio cambiare o rafforzare la direzione della mia vita ho speranza che cambierà o si rafforzerà la direzione della mia vita ho speranza che cambierà o si rafforzerà la direzione della mia vita allora che sguerga in me la forza e la luce della vita oggi e non domani va verso la riconciliazione abbraccia tuo amore, tuo marito, tuo figlio a tua madre e tuo padre saluta il tuo amico e il tuo nemico e dici con il cuore aperto qualcosa di grande di nuovo è successo oggi in me spiegale poi quello che è successo per che anche loro possano portare questo messaggio vorrei ripetere questa frase oggi e non domani va verso la riconciliazione abbraccia tuo amore o tuo amore tuo figlio, tua madre e tuo padre saluta il tuo nemico e il tuo nemico e dici loro con il cuore aperto qualcosa di grande di nuovo è successo oggi in me spiegale loro poi quello che è successo e non domani che hanno qui pesa osano portare questo messaggio oggi forza e allegria grazie a tutti